Grand Crust, the wild taste Un peperoncino piccante, prezzemolo, olio d'oliva, una cucchiaiata di farina, un bicchiere di vino bianco, un bicchiere di brodo di pesce Per cominciare a elaborare la ricetta, se non l'abbiamo già fatto, spurghiamo le vongole Possiamo eliminare i residui di sabbia mettendoli in un recipiente coperto con acqua e due cucchiaiate di sale Dopodiché mettiamo il recipiente nel frigorifero per un paio d'ore Mentre le vongole sono in ammollo, mettiamo il prezzemolo in un recipiente con il brodo di pesce, lo tritiamo e lo teniamo da parte In una padella grande, mettiamo un filo d'olio e soffriggiamo la cipolla tritata fino a che si ammorbidisca, ma evitando che diventi troppo scura Quando la cipolla si è ammorbidita, aggiungiamo l'aglio e il prezzemolo tritati Li lasciamo soffriggere ancora per qualche minuto Trascorso questo tempo, aggiungiamo la farina e lasciamo soffriggere per un paio di minuti girando in continuazione Ora, incorporiamo il vino e la salsa verde che abbiamo tenuto da parte Per fare aprire le vongole, basta metterle a contatto con il calore In questo caso, le incorporiamo direttamente nella salsa verde e giriamo facendo molta attenzione Quando le vongole saranno aperte, le spolveriamo con un poco di prezzemolo tritato Il piatto è pronto da portare in tavola Buon appetito!